buonasera a tutti buon inizio settimana da parte della redazione di bioblu 24 oggi è il 22 marzo 2021 redazione che vi comunica di aver creato anche un nuovo canale youtube siamo tornati su youtube con un nuovo canale che si chiama bioblu 24 ve lo faccio vedere adesso ecco questa è la pagina la home page del nuovo canale iscrivetevi per rimanere aggiornati perché lì pubblicheremo tutte le interviste che realizziamo nel corso della settimana come anche i nostri telegiornali che usciranno puntuali alle ore 19 se avete problemi nel cercarci potete semplicemente modificare la ricerca per filtri e cliccando canale troverete al secondo posto il nuovo canale di bioblu che si chiama appunto bioblu 24 vi iscrivete e rimarrete così aggiornati con tutte le pubblicazioni che faremo nel corso della giornata e della settimana ovviamente il canale storico bioblu con mezzo milione di iscritti rimane attivo ma visto soprattutto nell'ultimo periodo le particolari e continue vessazioni che ha subito con varie restrizioni ed oscuramenti abbiamo semplicemente deciso di creare un nuovo canale parallelo più da battaglia dove vi ripeto pubblicheremo tutte le edizioni del tg e le varie interviste insomma seguiteci anche su youtube o 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